È una giornata meravigliosa, una giornata straordinaria, un appuntamento fisso per la nostra città, un appuntamento alla quale la città si prepara annualmente perché accoglie davvero centinaia, migliaia di parenti e familiari dei ragazzi che faranno il corso degli allievi carabinieri e quindi questa scuola allievi carabinieri per noi è un punto di riferimento, noi come istituzioni onoriamo questa giornata con la nostra presenza e naturalmente non manca l'occasione per ringraziare tutto quello che l'arma dei carabinieri fa sul nostro territorio da sempre, proprio ieri ho incontrato il colonnello Totaro che mi parlava dell'attività delle oltre 90 caserme dei carabinieri disposte sul territorio metropolitano e naturalmente anche l'occasione per ricordare i nostri caduti, caduti nell'esercizio del dovere e ringraziare in generale tutte le forze e l'ordine che per lo straordinario diuturno, quotidiano e costante lavoro che fanno per mantenere la legalità, ripristinare la legalità laddove non c'è e quindi garantire sicurezza ai cittadini.